35 milioni di euro, il valore economico generato sul territorio nel 2023, in crescita del 35% rispetto al 2022. È uno dei dati emersi in occasione della presentazione a brindisi del bilancio di sostenibilità territoriale della Puglia di A2A, che rendi conto alle prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo sul territorio nel 2023 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. Lorenzo Spadoni, direttore generazione and trading di A2A. Presentiamo un bilancio di sostenibilità che ha degli indicatori in crescita rispetto all'anno precedente. Nella filiera ambiente noi siamo attivi con diversi impianti in Puglia. La filiera energia, l'impianto che oggi ci ospita, qui la centrale di Brindisi, è un impianto che è diventato importante per la gestione della transizione energetica, soprattutto per assicurare alla rete elettrica dei servizi fondamentali, quali in particolare la regolazione di tensione che noi facciamo qui con dei generatori sincroni. Gli investimenti in infrastrutture del gruppo in Puglia, oltre 9 milioni di euro, sono in crescita del 54% rispetto al 2022. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. A2A è una presenza storica, una delle grandi presenze insieme a tante altre aziende pubbliche e private che hanno fatto della zona industriale di Brindisi una delle zone industriali più grandi di Europa, non solo, ma una delle zone più variegate, più articolate che esistano nell'interno del soggiorno d'Italia. Abbiamo la chimica, la farmaceutica, l'energia, l'aeronautica, l'aerospazio e tante altre piccole e medie imprese che sostengono complessivamente questa grande struttura industriale che oggi si trova ad avviare un percorso di transizioni plurale energetica, ecologica e anche digitale rispetto alla quale noi pensiamo come città e quindi come territorio di dover da un lato sostenere ma dall'altro aiutare queste grandi imprese a dare una mano alla città. Intesa San Paolo e Acea hanno firmato il primo accordo nazionale per la salvaguardia e la gestione sostenibile dell'acqua nei processi produttivi delle aziende, anche in relazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, un accordo che prevede lo stanziamento di circa 4,4 miliardi di euro per tutelare la risorsa idrica. Più in generale, Intesa San Paolo metterà a disposizione 20 miliardi di euro per supportare le iniziative delle aziende e degli operatori della filiera idrica. Anna Roscio, Executive Director Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo e Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea. L'acqua riguarda grossomodo un milione e mezzo di imprese agricole, circa 300.000 imprese manifatturiere, quindi un tema di tutti. L'obiettivo di questo accordo è mettere a disposizione le competenze del gruppo Acea in termini di advisory industriale, nuove tecnologie e le risorse finanziarie del gruppo per fare in modo che le imprese investano su nuove tecnologie per il riutilizzo dell'acqua, per il riuso e per l'efficientamento idrico. L'Italia ha bisogno di importanti investimenti, questa è una condizione non solo dell'Italia ma in generale dell'Europa. Considerate che in questo settore si stanno muovendo oggi anche in altre aree geografiche, gli Stati Uniti, la Cina, l'India stanno iniziando a investire pesantemente sul sostegno e lo sviluppo di investimenti in questo settore. L'Italia non è da meno, la nostra stima oggi di investimenti è di circa una cinquantina di miliardi, già oggi noi siamo impegnati in tutti i territori in cui siamo presenti a fare importanti investimenti, sia per quanto riguarda tutto il sistema dell'adduzione, tutto il sistema della distribuzione, ma anche tutto il campo di quello che riguarda la depurazione e il riuso dell'acqua. Intesa San Paolo e Acea hanno anche realizzato un osservatorio su settore idrico. Laura Campanini, Research Department di Intesa San Paolo. Abbiamo dedicato questo primo numero dell'osservatorio al tema del riuso della risorsa idrica, ovvero la possibilità di riutilizzare l'acqua depurata in modo opportuno dai depuratori per scopi agricoli, industriali e anche civili. Ed è un tema di grande interesse in una situazione di stress idrico crescente perché rappresenta una fonte alternativa di approvvigionamento idrico che può in qualche modo, in alcuni specifici casi, sostituire l'approvvigionamento convenzionale da risorse vergini. Programmazione e intelligenza nell'utilizzo dei dati sono le parole chiave per il settore del turismo e per la gestione dei flussi, secondo Alessandra Priante, presidente di Enite S.p.A., intervistata da Claudio Brachino per i magazine televisivo Italpress Economy. Se parliamo di una misurazione quantitativa il turismo sta andando benissimo, perché se la metrica mondiale è quella che vede il 2019 come il benchmark, per cui dico come sono andata rispetto a… e tutti concludono che stiamo andando molto meglio, in realtà stiamo andando non così bene a livello generale, perché se nel 2019 già ci lamentavamo del troppo turismo, in questo momento siamo anche a livello internazionale dicendo esattamente la stessa cosa. Quindi cosa vuol dire? Che sia prima che dopo non stiamo governando i flussi. È normale che ci sia un sovraccarico e quindi creando un impatto anche a livello antropico diciamo molto elevato, nei punti di snodo aeroportuale, ferroviario, cioè quelli dove si arriva. È normale. Sta a noi essere molto molto bravi, in questo senso Enite si propone di essere protagonista nell'aiutare le destinazioni secondarie a disegnare un prodotto. Cresce l'interesse delle istituzioni, delle imprese e della comunità scientifica sul settore della Blue Economy. Tra le iniziative che promuovono lo sviluppo del settore, la valorizzazione dei prodotti locali e delle città e dei centri rurali e marinari. Progetti per pescherecci ibridi e per la formazione e qualificazione professionale e un focus sulle potenzialità della distalazione e dell'eolico offshore.